Superano quota mille i nuovi casi di covid in Toscana. I contagi riferiti nel quotidiano aggiornamento della regione sono infatti per il 25 febbraio 1.374, cioè ben 517 in più rispetto alla giornata precedente. I decessi sono invece 14,3 in meno rispetto al bollettino precedente. L'età media dei nuovi positivi è di 44 anni. Spiora gli 85 anni invece l'età media delle persone decedute. In aumento anche il numero di test effettuati, che tra molecolari e rapidi, sono 22.735, 1.537 in più. Per la pressione sugli ospedali toscani i dati parlano di 7 ricoverati in più in isolamento, per 1.012 ricoveri complessivi per covid e 159 malati in terapia intensiva, 4 in meno rispetto al dato precedente. Per la provincia di Pistoia si conferma l'aumento consistente di nuovi casi con il picco più alto da inizio febbraio. I nuovi positivi sono infatti 174, 60 in più rispetto al precedente bollettino, cifra che Firenze a parte, per numero di abitanti, vede Pistoia prima tra le province toscane per aumento di contagi. Dato pistoiese che segue l'analisi sul territorio di 1.148 test effettuati, 202 in più rispetto al giorno precedente, per una percentuale di positivi che supera il 15% a fronte dell'11% circa della media toscana, ponendo la provincia in rapporto alla popolazione con il dato più alto di nuovi contagi a livello regionale. Per la diffusione dei nuovi casi a livello comunale, a parte Pistoia, che ha 45 nuovi positivi, spiccano i dati di Quarrata con 32 contagi, Monsummano con 15, Montecatini 12, Agliana 9 e Montale 7. In un'audizione in Commissione Sanità, l'assessore regionale Simone Bezzini ha riferito che a Pistoia si registrano circa 60 casi ogni 100.000 abitanti e che per numero di malati si iniziano ad avere difficoltà negli ospedali pistoiesi, come sta avvenendo a Empoli. In Toscana, inoltre, la variante inglese è rilevata tra il 40 e il 50% di chi si ammala. Dal via alla campagna di vaccinazione anti-Covid, che è stata in Toscana il 27 dicembre del 2020, a esservi sottoposte sono state 274.637 persone, 9.646 in più rispetto a ieri. Grazie a tutti.